non si accettano gli servitori stasera a lapidogra ci siete guadua rindo non si accettano gli servitori stasera a lapidogra ci sono non si accettano gli servitori stasera a lapidogra ci sono non si accettano gli servitori stasera a lapidogra ci sono un lotto infinito è effettivamente così perché se non c'è lui non comincia nulla non comincia nemmeno l'Ocdoria l'Ocdoria è un po' la mia casa diciamo un'altra mia casa a parte l'amicizia che mi lega con il mio esposito con i ragazzi che organizzano da sempre questo evento è un evento straordinario perché credo che sia un evento di grande aggregazione un evento di accoglienza in un territorio che accoglie persone che vengono chiaramente da fuori e questo è molto bello c'è quest'anno questo spostamento di location con un grande risultato quindi significa che il messaggio va oltre non è il teatro che fa la commedia quindi auguri all'Ocdoria, auguri a Mimma, auguri a voi, auguri a questa terra meravigliosa Insavvitabile ha lanciato un messaggio molto bello quando la felicità non la trovi cerca là dentro noi la nostra felicità ormai l'abbiamo dentro è proprio l'ospirata del maestro alla fine di ogni edizione che porta fortuna ma soprattutto regala emozioni che durano un anno fino ad aspettare la prossima edizione quindi lo ringrazio al nome mio, al nome di tutto lo staff, è Insavvitabile, voglio, sta poca fa e quindi lo possiamo dire che è Insavvitabile e l'Ocdoria Fest sono una jastem d'amore a servo a un po' di... a servo a un po' di...